Sì, quella di Asco deve essere la Salaria, è vero, quella che va a Rieti e poi da Rieti si va a Roma, se non vuole fare l'autostrada. Ma mi ricordo fu una volata da Rieti ad Ascoli, non so bene quanti chilometri sono ma ci mesi un'ora e sei minuti da Teramo, da Rieti fino allo singolo di Angarano. Eccolo, eccolo, Prati di Tifo! Questi erano tutti di zio, queste due case, insomma, abitava qui lui, qui in Termesoli, Pietracamela. Salve, faccio un report per YouTube, come stanno i parenti? Io sono Gios, quella che stai giù a Marrocchi, tu pensi? Gios, giù a Marrocchi, Elsa, non si ricorda, vabbè. Io sono anche tutta la famiglia. Eh, infatti andò a conoscere, sai dove sono stato? A Valico delle Capanelle, sono passata, Teramo, Cortino, Crognaleto, poi sono andato a Valico delle Capanelle, il lago di Campodò, che è scoperto un amico mio, quello che ho detto, un eterno riposo, quella volta morire il lago di Campodò, e ho detto, ora passo via, qui mi rallento, ho detto, è caperto, ho detto, mi fermo. Puoi vedere su YouTube, devi scrivere, no, 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 non ti ripeto, dai, non ti ripeto, vabbè, la cangella, la taglio, la taglio. E' Polini Special, Pro-Life, io faccio tutti i filmati che faccio per la vita, vede che cosa, sono un po', capito, cerco di portare in mano, che devo fare, cerco di usare tutti i mezzi per avvicinare i ragazzi al Signore, ma pure questo, pure questo, cioè, questo è un fatto nuovo, nuovo in senso assoluto, uno che fa il commentatore, e viaggia con, capito, tu che viaggia, non so, come Google, solo che Google lo fa in silenzio, John se lo fa parlando, e che, tanti auguroni, salutami Roberto, la mamma, auguri, 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 ciao, 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 ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.